L'8 gennaio è stato celebrato il 29esimo anniversario della morte di padre Dionisio, che con la sua carità ha lasciato un impronte indelebrio nel cuore degli spezzini che l'hanno conosciuto. Il 3 gennaio la Cina ha raggiunto un traguardo storico dell'esplorazione spaziale. Quali sono gli obiettivi di questa missione cinese? La partita della Supercoppa italiana tra Juventus e Milan, giocata nel campo sportivo di Jeddah, in Arabia Saudita, non è stata solo un importante evento sportivo, ma ha rappresentato una grande vittoria delle donne saudite. L'eclissi della luna rossa sangue ritornerà fra dieci anni. Buonasera carissimi telespettatori, benvenuti al nostro TG. Le giornate si sono allungate e ci permettono di venire in sede a registrare il nostro TG dei ragazzi alle 17.30, quando il cielo è ancora luminoso. L'inverno ci sta regalando giornate fredde e asciutte, che ci fanno respirare meglio, in attesa di quello che potrà succedere nei tre giorni della merla. La prima notizia di oggi è dedicata ad un personaggio spezzino, non di nascita, ma di adozione. Si tratta di Padre Dionisio, che ha lasciato questa terra 29 anni fa, l'8 gennaio. Il suo ricordo è vivo più che mai. Tutti conoscono Padre Dionisio come un luogo dove ci si può divertire facendo partite a calcio. Inoltre, questo luogo molto spesso è scelto per festeggiare compleanni, o fare ghiotti spuntini o cenette assaporite. Ma per i vecchi spezzini, Padre Dionisio è un'altra cosa. Ecco qualche notizia della sua vita. Ve ne parlerà Zoe. Padre Dionisio, al secolo Giovanni Mazzucco, nacque a Silvano d'Orba nel 1907. A 12 anni decise di entrare nel seminario dei Cappuccini di Genova Cornigliano. Nel 1922 divenne frate Cappuccino e proseguì poi gli studi in varie località della Liguria. Nel 1932 fu ordinato sacerdote dal Cardinale di Genova. Si dedicò alla preghiera e al lavoro dei frati. Quando fu nominato cappellano militare, Padre Dionisio si dedicò alla cura dei feriti di guerra e al sostegno spirituale dei prigionieri, spostandosi sul fronte italo-francese a bordo di una vecchia moto. Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 fu catturato dalle SS, ma poi riuscì a fuggire con molto coraggio. Nel 1948 fu trasferito alla Spezia e venne nominato cappellano Larmo, che aveva il compito di seguire gli operai dell'arsenale militare dal punto di vista spirituale e morale. I primi anni non furono facili per il frate che però non fece mai mancare il suo aiuto agli amarginati. Poco a poco conquistò la stima di tutti e si dedicò alla costruzione del centro di raccoglienza per i ragazzi sfortunati. Grazie al sostegno di Spezzini e della Marina Militare, ad iniziative benefiche e al suo impegno personale nel raccogliere l'elemosina, nel distribuire caramelle e bevande sugli spalti del campo di calcio, riuscì a raccogliere fondi. Nel 1953 acquistò un terreno su una collina a Porta Isola Bella e nel 1957 comprò Villa Podestà, che divenne un centro di accoglienza per i bambini orfani bisognosi. La villa aveva una cucina spaziosa, un refettorio, dormitorio e un grande giardino. Padre Dionisio rappresentava per gli Spezzini il desiderio comune di fare nascere la città ferita dalle bombe e di sperare in un futuro migliore. In occasione dei 40 anni della sua attività, venne nominato Arsenalotto Honoris Causa. Padre Dionisio è stato un esempio vero che, con sacrificio e dedizione, ha saputo mettere in pratica l'altruismo e la generosità. Morì l'8 gennaio di 29 anni fa. Ancora oggi Villa Podestà continua ad accogliere bambini e mamme in difficoltà. Ci trasferiamo all'estero per parlarvi di una meta importantissima e realizzata dai cinesi. Il 3 gennaio 2019 la Cina ha raggiunto un traguardo storico dell'esplorazione spaziale, facendo allunare per la prima volta i due robot della missione Chang'e 4, un lander e un rover in un cratere della faccia della Luna, invisibile dalla Terra. Il piccolo rover U2-2, soprannominato con il nio di Giada e il lander, hanno il compito di esplorare la faccia nascosta della Luna e di raccogliere dati e analizzare campioni di suolo e di roccia. Le foto scadate dalla sonda mostrano l'aspetto della superficie lunare, ricca di mari e crateri. Le più suggestive sono state le prime impronte lasciate da un velicolo costruito dall'uomo, il rover cinese U2-2, che da subito ha cominciato a muoversi e a lavorare. Gli obiettivi di questa missione sono diversi. Capire meglio come si è formata la Luna, quindi il nostro pianeta e il sistema solare, realizzare una serie di esperimenti scientifici, tra cui provare una mini-biosfera a far dischiudere le uova dei bacchi da seta e a far nascere alcuni semi di fiori, a studiare minerali e l'effetto del vento solare sul nostro satellite. Il 17 gennaio è stata giocata la Supercoppa Italiana 2018-2019 tra la Juventus e il Milan. La partita si è svolta nel campo sportivo di Jeddah, in Arabia Saudita. La Juventus ha vinto 1-0 contro il Milan. Questo evento sportivo è stato molto importante, ma nello stesso tempo ha rappresentato una grande vittoria per le donne saudite, che per la prima volta hanno potuto assistere ad una partita di calcio senza essere accompagnate da un uomo. Molte sono arrivate in macchina grazie alla patente appena conquistata, altre hanno raggiunto lo stadio da sole. In tribuna hanno seguito con entusiasmo la partita, insieme a tanti bambini. Le donne, poco pratiche, hanno chiesto agli italiani come bisognava attifare. Poi hanno fatto tanti selfie per ricordare questa giornata storica. Il 17 gennaio è stata dedicata ai festeggiamenti di Sant'Antonio Abate o Sant'Antonio del Porcellino, chiamato così secondo antica leggenda. La leggenda racconta che Sant'Antonio salvò un porcellino dalla morte, che poi lo seguì ovunque lui andasse. Il santo è rappresentato come un vecchio dei capelli e ha la barba lunga e bianca. Porta in mano un lungo bastone a forma di T e ai piedi ha un maiale col campanello. A volte nell'altra mano tiene un libro. In fondo alla chiesa abbaziale di Santa Maria Assunta, della Spezia, che si trova in piazza Beberini, c'è una grande statua di marmo di Sant'Antonio, che proviene dall'antico oratorio distrutto dalla guerra. Sant'Antonio è il protettore degli animali delle campagne e di quelli domestici. In molte zone d'Italia, nel giorno della sua festa, vengono fatti benedire gli animali. Tanti anni fa era proprio padre di Elisio che in piazza Italia, ora piazza Europa, benediva gli animali. Davanti a lui c'era sempre una lunga fila di animali da cortile e da stalla, soprattutto cani. Anche quest'anno in molte località delle province spezzine si è svolta la benedizione degli animali. In alcuni paesi della Val di Vara, tra cui Follo, Rocchetta, Vara e Pignone, sono stati benedetti gli animali cani, gatti, volatili, mucche, cavalli e asinelli. Sant'Antonio Abate è uno dei più famosi remiti della storia della chiesa. Nacque a Coma nel cuore dell'Egitto, intorno al 250. A vent'anni abbandonò ogni cosa per vivere da eremita, prima in luogo deserto, in secondo lungo il Mar Rosso. Qui restò per circa 80 anni. Morì nel 356 quando aveva più di cento anni, mentre era ancora in vita venivano da lui tantissimi pellegrini da tutto l'Oriente per chiedere aiuto e preghiere. I suoi discepoli tramandarono alla chiesa la sua sapienza, raccolta in cento detti e in venti lettere. In seguito il Papa permise ai suoi discepoli di allevare maiali, a spese della comunità, per cui i porcellini potevano circolare liberamente fra cortili e strade, e nessuno li toccava se portavano in collo una campanella di riconoscimento. Il grasso di questo animale veniva usato per curare il male di Sant'Antonio, chiamato poi il fuoco di Sant'Antonio, che dal punto di vista medico viene detto herpes zoster. Per questo il grande eremito egiziano venne considerato il protettore dei maiali, e quindi di tutti gli animali domestici e da cortile. Viene rappresentato come un grande vecchio dai capelli e barballunghi e bianchi. Ai suoi piedi c'è un maiale con la campanella, in mano a il lungo bastone degli eremiti, a forma di T. Nel giorno della sua festa viene data la benedizione a tutti gli animali. In alcuni paesi italiani viene preparata una catasta di legna, a cui viene dato fuoco. Durante la settimana, appena trascorsa, ci sono stati molti eventi importanti. Ve ne parleremo nel prossimo TG. È il momento delle rubriche. Via il filmato. La rubrica dei personaggi è dedicata ad un guerriero dei nostri giorni. Parte prima. Si chiama Ricola Torri, ha 20 anni, ed abita a Sarzani, provincia della Spezia. Frequenta l'Università di Pisa ed è disabile. Potete vivere in carrozzella. Conduce una vita normale, con l'aiuto della sua famiglia e degli amici. Da adolescente ha cominciato a rendersi conto delle barriere architettoniche della sua città. Marciapiedi, scalini, via dicendo. Ma soprattutto di quelle mentali, che molte persone hanno nei confronti dei disabili, in cui a volte sembra abbiano paura o senso di disagio. Nonostante le sue molte battaglie, molte barriere fisiche sono ancora presenti nella sua città. Quando ha cominciato a frequentare l'università, si è accordo che viaggiare in treno era molto difficile per un disabile. Ma Nicola non si è perso d'animo e ha inviato a Trenitalia decine e decine di mail, facendo presenti tutti i problemi che i disabili per ogni singolo treno, da Pisa e per Pisa. La sua battaglia è durata a lungo, ma alla fine qualcosa è cambiato. Ascoltando i suggerimenti di Nicola sulla tratta Spezia-Pisa, i treni sono diventati più accessibili. Le corse sono aumentate e il personale si è fatto più attento ai problemi dei viaggiatori in carrozzella. Ma la sua battaglia non finisce qui. Trenitalia l'ha promosso consulente della sua città, in ogni merito i problemi disabili. Ora Nicola sta lavorando per raggiungere un nuovo obiettivo, ottenere scompartimenti con manie e cinture per le carrozzelle e avere l'accesso in carrozza centrale degli interessi. Adatta per i disabili. Buon lavoro Nicola, siamo certi che ce la farai. La rubrica della solidarietà ha come protagonista Elisabetta. Elisabetta abita a Sarzana ed è una studentessa universitaria in medicina. Qualche tempo fa ha voluto inviare le sue belle trecce, dalla foto del secolo XIX sembrano nere, All'Associazione Onlus, un angelo per capello, che sostiene i pazienti oncologici in piglia, dove si preparano parrucche a chi non ha mezzi per comprarle. In Liguria e in altre poche regioni, l'ASL contribuisce all'acquisto delle parrucche. Nelle altre, ogni paziente si deve arrangiare come può. Basta invece inviare ciocchi puliti e asciutti a lunghi almeno 25 cm alla seguente mail. Infochiocciola unangelopercapello.it Ripeto, infochiocciolaunangelopercapello.it per contribuire alla preparazione di una parrucca. Quando Elisabetta è stata intervistata, ha detto La mia soddisfazione non è il fatto di stare bene con il nono taglio di capelli, ma sapere che qualcun altro porta a tornare a guardarci allo specchio. La rubrica degli animali ci racconta una storia vera successa nella nostra città. L'episodio è avvenuto in una casa dei genitori di Celeste, una redattrice di qualche anno fa. Un cucciolo di coniglio viveva nel prato della cattedrale San Giovanni XXIII. Stava correndo quando nel prato è entrato un gatto. Se il cucciolo avesse tentato di battersi, non avrebbe avuto scampo. Allora si è finito morto e la sorte l'ha aiutato. Quando il gatto l'ha portato a casa, reggendolo tra i denti, tutti hanno pensato che fosse senza vita. Invece, come il gatto l'ha posato a terra, il furbo coniglietto si è rialzato. I padroni di casa lo hanno riportato nel prato. Anche il piccolo non voleva saperne di andare via. La prima volta è saltato dalle mani ed è rientrato in casa, ma avrebbe dovuto convivere con gatti e cani e certamente non sarebbe sopravvissuto. Per cui a malincuore lo hanno riportato da dove era venuto. La rubrica della musica oggi è dedicata a Fabrizio D'Andrè, ricordato da tutti i mass media in occasione del ventennale della sua scomparsa. Fabrizio D'Andrè è stato tante cose insieme. C'è chi lo definisce un poeta, chi un cantautore, chi addirittura lo considera l'ultimo trovatore della nostra tradizione letteraria. La sua produzione è sterminata e ugualmente attenta al mondo che lo circondava. I suoi album sono piccoli capolavori, così dicono i critici. È stato un lettore instancabile, di notte amava scrivere le sue poesie che poi trasformava in canzoni. E come ogni bravo autore sapeva a che cosa ispirarsi, la vita reale con i problemi di tutti i giorni, opere letterarie da collegare con fatti attuali. D'Andrè ha vissuto i suoi 58 anni in maniera piena e ha regalato ai suoi fan piccole perle che rimangono nel cuore e nelle orecchie di intere generazioni. Ma come ogni grande della storia sapeva bene a cosa ispirarsi, natura, persone soprattutto se marginate, fatti di cronaca, problemi sociali, opere letterarie. Sapeva ascoltare il suo cuore e trasformare in musica i suoi sentimenti. Io ho conosciuto Dendrè grazie a mia madre e le mie canzoni preferite sono Via del Campo, La Guerra di Piero e Il Testamento di Tito. Il nostro Tg è concluso e vi aspettiamo la prossima domenica. Outro Outro Grazie a tutti.